Il progetto RAE a scuola, promosso dal Lanci e dal Centro di Coordinamento RAE, con il patrocino del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, continua con grande successo. Questa mattina, infatti, gli operatori di Gea Pordenone hanno cominciato la raccolta dei rifiuti all'interno degli istituti scolastici. Presente è anche l'assessore all'ambiente Nicola Conficoni. Con lo svuotamento dei contenitori consegnati nelle scorse settimane da Gea nelle scuole della città che hanno aderito al progetto e la pesatura dei piccoli elettrodomestici che sono stati conferiti dagli alunni, si conclude la prima fase del progetto RAE a scuola, finalizzato a favorire la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che in questo modo potranno essere correttamente recuperati. Sono materiali come telefonini, phon, calcolatrici, piccoli elettrodomestici che sono costituiti da metalli preziosi ma anche da materiali pericolosi e che quindi è opportuno avviare correttamente a recupero. Il progetto non si esaurisce qui perché gli alunni avranno comunque anche terminato il periodo del concorso la possibilità di continuare a conferire nelle scuole questa particolare tipologia di rifiuti in modo tale da favorirne il corretto recupero. Grazie a tutti.